Giuliano, ti volevo domandare, questo film, secondo te, con questo film, si fa un piccolo passo avanti nella ricerca della verità? Indubbiamente, molto importante, ripercorre gran parte di quello che è successo in quei due giorni a Genova e direi che specificatamente sulla vicenda di Carlo offre qualche elemento o molti elementi in più per valutare come sono andate effettivamente le cose. Tu dicevi Placani che ha assolto, no, peggio, è stato assolto lo Stato che è il vero responsabile dell'assassinio di Carlo, gli apparati, le cosiddette forze dell'ordine, i carabinieri, che quasi sempre vengono ignorati. Mi tocca diventare, al di là del rispetto che ho per le forze dell'ordine, ma uno dei principali amici della polizia, perché sulle questioni dell'ordine pubblico e delle cose nefande che sono state fatte a Genova si dice sempre polizia, i carabinieri che sono più responsabili, non i carabinieri in senso generale, tenete conto che distingo sempre e non faccio le ammucchiate, ma quelli impiegati lì sono i peggiori, i peggiori in assoluto. Avete visto nel film, anche se il passaggio è rapido ma ugualmente incisivo, che a Carlo non soltanto somministrano la morte attraverso un colpo di pistola, ma fanno una cosa che considero persino peggiore sotto certi punti di vista. E cioè un carabiniere gli spacca la fronte con una pietrata mentre è ancora vivo, perché siccome la fronte è impregnata di sangue significa che c'è ancora attività cardiaca nel momento in cui questo maledetto assassino compie quella operazione, a meno che qualcuno non venga a dirmi che le pietre da due metri alla testa di Carlo le ha spostate l'arcangelo Gabriele. Per fortuna re, l'inquilino dello stabile di Piazza Limonda, ha fatto molte fotografie. In una fotografia la pietra è lì, in una fotografia successiva, mentre questo sporco carabiniere maledetto è accovacciato vicino a Carlo, la pietra è vicino alla testa di Carlo, sporca di sangue. E questa cosa la fanno perché un indegno vicequestore della Polizia, Adriano Lauro, promosso anche lui questore, poi era capo del commissariato Flaminio qui, poi è andato a Tivoli e poi ne ho perse le tracce, inventa perché è arrivata una telecamera in Piazza Limonda. Non voglio approfittare della vostra gentilezza, ma mi sembrava utile chiarire ancora tre o quattro cosette nel tempo più breve possibile. Una sull'innominato, cioè su De Gennaro mi pare giusto ripeterla. La sentenza sulla Diaz di Cassazione attribuisce anche a De Gennaro una responsabilità precisa, perché dice che la sua insistenza nel fare un'operazione che potesse in qualche modo recuperare la credibilità, visto il comportamento assolutamente deficitario delle forze dell'ordine, ha causato la macelleria messicana della Diaz. Il problema è che nei paesi civili uno di cui si scopre dopo 30 anni che ha copiato due pagine della tesi si dimette, mentre questo individuo, ricordo a Malabarba che nei suoi vari cambiamenti ha avuto anche sei mesi di incarico su una questione che visto il suo comportamento potrebbe essere congeniale, cioè la spazzatura di Napoli, risolta anche quella senza proprio nessun risultato positivo. La seconda questione, non vorrei riaprire una vecchia cherelle, Napoli-Genova. Guardate, io sono convinto che Napoli e Genova non c'entrano proprio, non c'è paragonabilità, o meglio, c'è la paragonabilità dal punto di vista del comportamento delle forze di polizia, chiusura delle vie di fuga, la caserma Raniero, l'ospedale, le botte, ma a Napoli non ci sono i black bloc. A Napoli non c'è la strategia inaugurata a Genova, si reprime col consenso della gente, questo è, e cioè si prendono 200-300 individui, mascalzoni, nazisti, neofascisti, imbecilli generici e li si lascia liberi, bisognerebbe ascoltare tutte le telefonate. C'è una telefonata a proposito di piazza Paolo Danovi, che viene ricordata molto bene nel film, quella telefonata non c'è, ma voglio dire, ve la posso raccontare in 30 secondi, due alti ufficiali dei carabinieri, uno dalla zona rossa dove ci sono gli otto inutili individui e uno che è alla centrale operativa, dice dimmi un po' alle 11.40 della mattina del 20 luglio, dimmi un po' che succede, ma per adesso si stanno armando in piazza Paolo Danovi, ma non è zona rossa, è zona gialla. In piazza Paolo Danovi, mentre i black bloc fanno quelle robe lì, disselciano, ci sono 200 carabinieri di una compagnia che applaudono in qualche modo quello che stanno facendo i black bloc. Dalle due e mezza del pomeriggio, quando ormai i centralini di polizia e i carabinieri sono intasati dalle telefonate esasperate di centinaia, migliaia di cittadini genovesi, cominciano le operazioni repressive, quali? Piazza Manin, i pacifisti della rete Lilliput, gli scout li massacrano, un reparto di polizia guidato da Pagliazzo Buonanno e poi l'attacco che Mandelli, ma soprattutto il capitano Antonio Bruno, fanno, inviato le maide, nei confronti del corteo autorizzato delle tute blu. Quindi questo è il quadro che differenzia, secondo me, senza nessuna giustificazione a quello che viene fatto a Napoli, per carità. Altra cosa importante, i gruppi di comando. In Piazza Limonda c'è un gruppo di comando di elite dei carabinieri. Truglio, dopo le imprese di Piazza Limonda, viene addirittura nominato capo della gendarmeria europea Consiglia di Vicenza e per due anni dirige le polizie armate di sei paesi europei, Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Belgio, al quale poi si è giunta la Romania, anche perché nel contempo il boia Canterini era stato mandato in Romania ad addestrare la polizia robena. Pensate un po', questo mi richiama anche le promozioni, ci sono delle promozioni che neanche Crozza sarebbe stato capace di fare. Cioè, siccome Mortola, il capo della Digo Genovese, viene mandato, promosso questore, viene mandato a Torino, non come questore, come incarico, ma come dire, promozione personale, da Torino comincia a menare i notav della Valsusa. Siccome li mena bene, viene nominato capo della polizia ferroviaria di Torino, in modo tale, voglio dire, che il menaggio degli antitav avviene, diciamo così, con sostanza. Sgalla, uomo di fiducia di De Gennaro e portavoce, quello che diceva ferite pregresse, neanche un cretino poteva sostenere che il sangue alla dias alla sera, alle 11 di sera, fosse delle ferite del mattino, perché sarebbero morti di sanguati, eppure passa questa roba. Sgalla, qualche anno dopo, si trova in una situazione particolare, corre ad Arezzo, blocca il colloquio del questore con i giornalisti, perché nel frattempo l'agente spacca rotella della polizia stradale, ammirato da 80 metri di distanza e ha ucciso in macchina Gabriele Sandri. Siccome ha difeso un agente della polizia stradale, Sgalla è stato nominato capo della polizia stradale, non poteva essere diversamente. Cioè, voglio dire, anche le promozioni hanno qualcosa di comico, se così si potesse dire. Il gruppo di comando in Piazza Limonda, un gruppo di elite, Truglio, Cappello, Mirante, Zappia, sto citando in ordine degradante di gradi sulle mostrine, era in Somalia nel 1994 a Mogadiscio, quando è stato ucciso l'area Alpi. Questi individui figurano nel diario del maresciallo Aloi, un carabiniere esemplare, ce ne sono tanti per fortuna, con il quale Ilario Alpi era entrato in contatto e sul diario il maresciallo Aloi, di cui si sono perse le tracce, aveva scritto che Truglio, Cappello e questa banda qui erano o direttamente responsabili o quantomeno al corrente delle violenze sessuali dei carabinieri del Tuscania sulle bambine somale. Questo è il gruppo di comando. Dopo la Somalia, questi non ne hanno persa una delle missioni di guerra, scusate, delle esportazioni di democrazia alle quali il nostro paese ha partecipato, perché se le sono fatte proprio tutte, l'Albania, la Jugoslavia, poi non potevano venire a testimoniare in tribunale perché dovevano correre tra l'Iraq e l'Afghanistan. Ma questa è la gente, quando parlo degli apparati. L'ultima cosa importante... L'ultima cosa è questa, molto importante, c'è Ciabattoni, bravissimo, uno dei nostri migliori tecnici, che però non ha potuto fare quello che avrebbe potuto fare, perché le immagini nella vicenda di Carlo non hanno contato. La battaglia contro i quattro imbroglioni che si sono inventati lo sparo per aria, cambiando tutto, doveva avvenire attraverso l'esame della velocità della luce rapportata alla velocità del suono per sapere a che punto c'era la distanza, il colpo di pistola come avvenuto. Non era possibile vedere le immagini perché il ridicolo del modo in cui è amministrata la giustizia, allora, escludeva le immagini come prove testimoniali. Perché dico le escludeva? Perché basta guardare il filmato e l'incrandimento del filmato e si vede la mano con la pistola esattamente parallela al suolo che esplode i due colpi, mentre quei quattro farlocchi nominati impropriamente consulenti del pubblico ministero alla fine vanno al poligono di vicino Fornovo e lo si vede che spara così. C'è proprio una roba allucinante. Ci sono voluti otto o nove anni perché in un'aula di tribunale le immagini potessero avere finalmente piena cittadinanza. E quali sono le immagini? Quelle che avete visto nel film, il sacchetto azzurro delle Molotov, senza quelle immagini, la banda Gratteri, Luperi, Caldarozzi, Cicimarre e via andando, non sarebbe stata inquisita e non sarebbe stata condannata per il reato più forte che fanno in quel momento, il falso. Cioè avere introdotto dentro la scuola Diaz, fatte introdurre dall'ispettore Troiani e dall'agente Burgio, due bottiglie Molotov che dicono di aver trovato, non è escluso che se le siano fabbricate poco prima, dentro la scuola Diaz, con uno scopo ben preciso, nell'ordinamento di questo strano paese, il possesso della bottiglia Molotov qualifica il possessore come responsabile del reato di terrorismo, 14 anni minimo di carcere, come ricordava prima Coel. Questo è il punto. E quindi avere introdotto le Molotov dentro la scuola significava 93 persone, tutti terroristi, tutti da 14 anni in su. È il reato contestato più grosso a quelli lì. Capite? E questo quando ripeto, gli apparati sono una roba da mettersi le mani nei capelli per chi li ha, o io solo sulla testa. È questo, è questo. E in qualche modo bisogna che ci diamo un po' da fare perché altrimenti di democrazia non se ne parla. Scusate, ma... Grazie, grazie. Arrivo da te, Giona. Mi permetto, prima di darti il microfono, di chiamare in causa Mark Coel. Fracassi, ti prego di assistermi nella traduzione con Mark. Mark... This is going to be fun. Più o meno tutti lo sappiamo. È un giornalista di Indymedia, è stato vittima a Genoa di molti attacchi da parte della polizia davanti alla Diaz, ha perso i denti, rottura delle costole e finito in coma per 14 ore. Ha denunciato la polizia italiana per tentato omicidio. Il processo penale si è risolto però in un nulla di fatto. Però la GIP Adriana Petri ha archiviato il procedimento denunciando la sostanziale mancanza di collaborazione da parte degli inquirenti. Quindi hanno impedito gli inquirenti di individuare gli agenti coinvolti nel pestaggio. Però è stato risarcito con 350 mila Euro, cioè ha vinto la causa civile. Mark, allora, oltre a quello che hai detto nel film, cos'altro vuoi aggiungere dopo questo che hai sentito stamattina? Allora, dice che per l'apriamo prima volta sentivo parlare del mio progetto, del nostro progetto, scusate, nel 2008 e aveva appena finito di costruire uno stranissimo video che poi avete visto nel film, che è composto di tutti i video esistenti sulla Diaz, ha finito di costruire questo video qui. Io sono responsabile per collezionare e sincronizzare tutta l'evidenza dalla Rai di Diaz, in un video di 6 screen, di alta definizione, che ha 41 tappi di evidenza in questa produzione. Allora, questo video era composto di 41 video raccolti sulla Diaz, normalmente, questo aggiungo io, se ne conosce uno e poi intanto se ne vede un altro, lui ne riuscì a trovare ben 41 differenti, ha costruito 6 schermate, questi video sincronizzando in realtà di loro in maniera tale che uno potesse vedere in qualsiasi momento la stessa azione vista da tutti i punti di vista differenti. Allora, seguendo il processo della Diaz, si rese conto che il magistrato che sta indagando, aveva visto un video sulla Diaz e poi alcuni mesi dopo ne aveva visto un altro differente e non riusciva a collegare le cose da di loro, gli sfuggivano ovviamente i particolari perché le aveva visti in momenti diversi, separatamente. Ha cercato di costruire questo video che lui chiama Super Video, soprattutto per capire quello che era accaduto a lui, cioè per cercare di trovare i colpevoli del suo pestaggio. Il suo progetto è costato 80.000 euro, uno sforzo di due anni e mezzo e l'aiuto dell'intero team di avvocati che si è interessato ai fatti di Genova. Il 15 novembre del 2007 finalmente è riuscito a costruire, a finire questo suo video, quindi oltre sei anni dopo la fine del G8. Cioè grazie a questo video sono stati individuati 27 poliziotti singolarmente responsabili del massacro della Diaz, insomma. grazie al video che ha fatto lui. Insomma lui è molto soddisfatto di quello che ha fatto perché ha aiutato a far ottenere in qualche modo giustizia per quello che è accaduto alle Diaz. e sono molto grazie a Franco e il suo team per presentare Super Video per la prima volta in un documentario. Ci ringrazia perché per la prima volta questo suo Super Video è stato mostrato in qualche modo anche con spiegazioni annesse. Dice quello che ha già spiegato Morabito che la scorsa settimana il suo caso è stato archiviato a Genova. Dice per 11 anni non ho mai cercato di parlare approfonditamente dei responsabili che mi hanno causato quello che è successo insomma quella notte. Dice per la scorsa settimana che mi hanno causato la scorsa settimana e la scorsa settimana e la scorsa settimana. Insomma ha lasciato fare molto ai suoi avvocati, al e ai magistrati che sedivano il caso della Diaz, il suo caso, e lui si è stato dietro le quinte della vicenda. Dice come Giuliano anche lui non è riuscito a ottenere giustizia per quello che lo riguarda. Nel film si vedono, vengono indicati uno per uno i vari comandanti, i vari dirigenti, polizia che in quel momento erano presenti alla Diaz mentre lui veniva pestato. Dice alcuni di quei dirigenti hanno personalmente partecipato al suo pestaggio, altri erano presenti e non hanno fatto nulla per impedirlo. Io vorrei per la prima volta dire i nomi di queste persone insomma che sono coinvolte. Dice ci sono quattordici poliziotti di diverso grado che hanno attentato alla mia vita e che hanno cercato di uccidermi quella notte. Vincenzo Canterini Vincenzo Canterini Michelangelo Fournier Ah, Michelangelo Fournier. Scusate, lui storpi un nome italiani ha un po' di difficoltà. Forse questo lo capite anche voi. Vorrei solo spiegare qualcosa riguardo Fournier che poche persone conoscono. Francho, io conosco questo un paio di anni fa, ma Procacci e Vicari che hanno realizzato il film Diaz non hanno avuto accesso ai suoi file perché era sotto inchiesta quindi non potevano essere resi noti. E' la ragione per cui Fournier nel film viene mostrato, Fournier credo sia Santa Maria, non vorrei sbagliarmi, nel film è stato mostrato mentre pestava delle persone al primo piano mentre invece lui in realtà stava fuori cercando di farlo fuori. Now, other commanders involved were Spartaco Mortola Spartaco Mortola And his deputy Carlo Dissaro E il suo vice Carlo? Dissaro Dissaro, vabbè. Scusate, alcuni nomi io non li conosco. Other commanders, Filippo Ferri Fabio C. Samara Dissaro 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 Spartaco Mortola, Carlo Di Sarro, questo no? No, è proprio così. Per i giornalisti seri a studiare la motivazione del 2010 per l'appelio di Diaz, tutti questi nomi sono listati là. Se vi studiate comunque la motivazione, insomma la sentenza sulla Diaz, tutti i nomi comunque stanno all'interno di quella sentenza. Il motivo per cui non sono stati processati, per cui alla fine non sono finiti in galera, è perché c'è stata una copertura da parte del nostro Ministro dell'Interno nel corso di questi anni. For a long time, you know, Dr. Zucca, the prosecutor, faced a lot of obstruction and now we know there's been destruction of evidence by the Ministry. Covel sostiene che Zucca, che è il pubblico ministero che si è occupato del caso della Diaz, non è potuto avere accesso a una serie di documenti perché il ministero li ha distrutti, li ha fatti sparire. I think, I mean, I'm not going to mention politicians' names at the moment, because my lawyers have told me not to, but I just want to say this as a final announcement. I was in Genova yesterday and I saw Dr. Zucca and he said that in April there is a parole hearing for the Diaz police and ten of them may go to jail. Dice che ieri è stato a Genova a parlare con il magistrato, prima ha detto che conosce i nomi dei politici che hanno insabbiato tanto la vicenda, ma il suo avvocato ha detto che per il momento è meglio che non gli dice, se no non otterrà mai nulla. Invece, ieri è stato a Genova a parlare con chi continua le indagini sulla vicenda della Diaz e dice che ci saranno dieci poliziotti che finanno sicuramente in galera perché verranno condonati a più di tre anni di carcere. E questa è un'anticipazione perché pare che quella cosa verrà ad aprile. Dice che Zucca, in un punto il PM della Diaz, gli ha confessato che secondo lui si rischia che il nuovo Parlamento invece di fare una commissione d'inchiesta, lui ha paura di questo, invece di fare una commissione d'inchiesta sulle vittime, sui fatti di Genova, alla fine la faranno su chi ha indagato su quelle cose, magistrati compresi, e dice che il team che si è occupato di questi processi ha paura di dover pagare per aver condannato dei poliziotti. E lui per dieci anni ha aspettato qualcuno dalle forze dell'ordine che dicesse qualche cosa, che additasse come colpevole qualche suo collega, che confessasse qualcosa e la sua attesa è rimasta in Evangelo. Abbiamo avuto due grandi appelli, uno in Genova e uno qui in Roma, e ancora non ha detto niente, ma ora all'ultima stanno protestando il loro inocenza e ora vogliono parlare con tutti. Vabbè, non ha aggiunto nulla di sostanziale. L'ultima cosa che vuole dire, e si rivolge a qualsiasi politico di qualsiasi schieramento, è che il nuovo Parlamento provi la legge sulla tortura perché è uno scandalo che l'Italia non abbia una legge del genere. Perché quello che è accaduto a me potrebbe accadere anche a voi. Grazie Marco. Grazie, grazie.